Celebbiamo la Santa Mesa per il defunto Bertino. Ricordi inoltre che è possibile lucrare l'indulgenza plenaria per i nostri cari defunti da oggi, dal meggior giorno di oggi fino a tutto domani. Si può lucrare l'indulgenza a queste condizioni necessarie a confessarsi entro otto giorni, visitare dall'otto fino all'otto novembre il cimitero, pregare quindi per i defunti e poi presso la chiesa onoratoria o recitare il credo del Padre Nostro e poi la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontevice. Quindi l'indulgenza plenaria sarebbe la remissione completa di tutte le pende a scontare in purgatorio che solo per un defunto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per poter partecipare dignamente a questa Santa Messa, che è il sacrificio di Cristo per la nostra salvezza e redenzione, in questa sonnerità di tutti i Santi, dinanzi a Dio riconosciamo tutti i nostri peccati, i salmi di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempreveggere Maria, gli Angeli e i Santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ambia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Chiriele iso, Chiriele iso, Christele iso, Christele iso, Chiriele iso. Chiriele iso, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi te lo diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Firo Onnigeto, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siete alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sori il Santo, tu sori il Signore, tu sori l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che ci doni la gioia di celebrare in unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, congede al tuo popolo, vera comunione e intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli, nei secoli. Amén. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremmo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, abbolti in veste candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce, La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e agli anziani, e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, e adorarono Dio, dicendo Amen, lode, gloria, sapienza, azione di razzie, Onore, potenza e forza al nostro Dio, Nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me, e disse, Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono, e da dove vengono? Gli risposi, Signore mio, tu lo sai, E lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra, e quanto contiene. Il mondo, con i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondato sui mari, e i suoi fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio e sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si posse a sedere, e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare, insegnava loro dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sede della giustizia, perché saranno assasiati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo, diranno ogni sorta di male conto di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore, l'ode a te Cristo. Per l'angelica dicta, degli andor nostra dicta. Siano lodati, Gesù e Maria, sempre siano lodati. In questa grande solennità di tutti i santi, la liturgia ci invita a meditare sull'eternità sul paradiso. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il testo dell'Apocalisse di San Giovanni, capitolo settimo. San Giovanni si trova in Grecia, nell'isola di Patmos, esule, prigioniero, e lì ebbe questa bellissima rivelazione. Apocalisse significa proprio questo, rivelazione. Rivelazione di quello che sarà alla fine del mondo, gli ultimi tempi. E' un linguaggio difficile, quello apocalittico, linguaggio ricco di simboli, ma sostanzialmente San Giovanni ci fa conoscere quella che sarà la nostra Padre Eterna. ebbe questa grande visione, questa bellissima visione, in cui si parla dei santi, che si trovano in paradiso, di fare i 144.000 e poi una moltitudine che non si può calcolare. Una moltitudine di ogni razza, lingua, popolo e nazione. Alcune sette girano per le nostre strade dicendo che soltanto loro si salveranno 144.000 bugiardi. Gesù parla, il Vangelo e l'Apocalisse, si parla di 144.000, ma dice anche che poi una moltitudine che non si può calcolare, miriadi di miriadi di persone, di anime salvate, che lì contemplano, dice il testo dell'Apocalisse, hanno sulla loro fronte il sigillo. E qual è il sigillo? La T, di Theos, dal greco Dio, il sigillo che è stato impresso su noi attraverso il battesimo, ha impresso questo sigillo indelebile, che apparteniamo a Dio, Theos, Dio. Sulla fronte di tutti coloro che sono figli di Dio, abbiamo ascoltato anche la seconda lettura di San Giovanni, che ha scritto oltre al Vangelo altre tre lettere, cosiddette cattoliche, e oggi abbiamo ascoltato la prima lettera cattolica, dove si parla dei figli di Dio, coloro che sono chiamati all'eternità, che devono partecipare, anche noi, parteciperanno a questa felicità eterna del paradiso, però, dice il testo dell'Apocalisse, sono coloro che hanno su di sé le veste candide, bianche, indica la purezza, che queste veste sono state lavate dal sangue dell'agnello, c'è Cristo, che è l'agnello senza macchia, che ha sofferto per noi, e noi ci siamo purificati, dopo, dice l'Apocalisse, una grande tribolazione. Ecco, vedi una multidudine immensa, che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, quindi non c'è differenza di persone, quando saremo davanti al giudizio di Dio, saremo tutti uguali, saremo giudicati per quello che hai fatto, sulle tue virtù, sulla tua santità, e poi vedremo che cosa significa questo, e come si raggiunge la santità. Tutti stavano davanti al trono di Dio, con veste candide, che tenevano in mani la palma del martirio, cioè la palma indica la vittoria, la palma dei martiri, perché hanno lottato su questa terra, per essere fedeli a Dio, soltanto chi lotta per Gesù, partecipa al paradiso, coloro che fa una vita disordinata, coloro che vivono assecondando i piaceri della terra, le passioni disordinati, vivono soltanto per mangiare, bere, riprodursi, come le bestie, e faranno la fine delle bestie, diceva Padre Pio. E allora ecco, ne uno lottare, e davanti si inchinarono, tutti questi a molti due, si inchinava davanti a Dio per lodare e ringraziare Dio. E dice l'Apocalisse, questi che sono vestiti di bianco, chi sono? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, rendendolo candide nel sangue dell'agnello. Cioè sono stati fedeli a Gesù, hanno seguito Gesù. E per seguire Gesù significa lottare. Lottare, accettare le prove e le difficoltà della vita. Il mondo ci invita a vendicarci, a odiare, risentimenti, rancori. Gesù ci dice perdona, ama i tuoi nemici, prega per loro, perché non sanno quello che fanno. Non sapranno che fra poco anche loro, tutti, compariremo davanti al giudizio di Dio, tutti, e ciascuno saremo giudicati per le nostre azioni. E allora siamo chiamati a diventare figli di Dio perché siamo seguaci di Gesù, seguiamo l'agnello, seguiamo il Signore. E lo siamo realmente, dice San Giovanni nella seconda lettura. se la gente non ci conosce perché non conosce che siamo cristiani, non riesce a capire perché perdoniamo, perché facciamo certe cose, non accettiamo quello che ci dicono la TV, la radio, internet, non accettiamo il modo di pensare del mondo che invita soltanto a rubare, a imbrogliare, tradire, l'adulterio, impurità di ogni genere. San Pio X diceva addirittura gridava e urlava come questi santi in paradiso, gridano, urlano davanti a Dio, lodano Dio ad alta voce. Sono peccati gravissimi alcuni che gridano vendetta al cospetto di Dio come l'aborto, agli atti impuri di un'omosessualità e così via, rubare, sfruttare il povero. Sono peccati gravissimi dice San Papa San Pio X. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio ma ciò che saremo non è stato ancora del tutto rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, Gesù in noi, saremo simili a Gesù, a Lui, in paradiso. Lo vedremo così come gli è. Già, ma non ancora del tutto. Questo vuol dire che già su questa terra, essendo figli di Dio, noi già pregussiamo il paradiso con la pace, con la serenità. Anche nelle dipolazioni già partecipiamo, un anticipo di quello che ancora non è nella pienezza, ma già su questa terra anticipiamo la Padre Eterna. quando un animo invece si sta in peccato, vive nel disordine morale, vive solo per se stesso, un egoista, chiuso in se stesso, già su questa terra anticipa l'inferno, lo stato di dannazione, non ha pace, non ha requie, perché vive senza Dio, nella disobbedienza ai comandamenti, non va mai a messa, non si confessa mai, cerca, notte e giorno, studia come imbrogliare e sfruttare gli altri. sono peccati gravissimi e non hanno pace. Quindi, il Signore ti dice non avere paura, nella tribolazione, io sarò accanto a te, vicino a te. Ma come si realizza tutto questo? Ecco perché la liturgia, con la massima, con la sapienza di Dio, ci invita a meditare su questo bellissimo testo delle beatitudini. Gesù si mette a sedere in mezzo al prato e comincia a predicare sulle beatitudini. Beati i poveri in spirito, tu vuoi raggiungere questa pace? Vuoi veramente essere figlio di Dio? Realmente? Allora vive le beatitudini e Gesù ti insegna la strada. Beati i poveri in spirito, perché di esse è il Regno dei Cieli. Chi sono i poveri in spirito? I poveri sono gli umili, quelle persone che si spogliano dell'amor proprio, del proprio amor proprio, per accettare la volontà di Dio. Questi sono i poveri in spirito, le persone umili. E l'umiltà è una virtù fondamentale con i santi, San Giovanni della Croce, è il fondamento di tutte le virtù. Senza umiltà non ti fai santo. Senza l'umiltà la tua vita spirituale non cresce. E fine dell'umiltà dice San Tommaso d'Aquino è la pazienza. Vuoi sapere se sei umile? Vedi se sei paziente. Dalla pazienza si vede quanto sei umile. Non hai pazienza, ti agili per niente, sei pieno di sé. Vuoi avere sempre ragione? Brutto segno. Non c'è umiltà. E senza umiltà non c'è vita spirituale. Non si partecipa al regno dei cieli perché di essi è il regno dei cieli. mediati quelli che sono nel pianto perché saranno perché piangono? Piangono perché la gente vive senza Dio. Quando tu vedi tanti tuoi amici, i tuoi figli, i tuoi parenti che vivono nell'indifferenza e dire tu soffri interiormente perché sai che rischiano la dannazione eterna perde la loro anima e allora pianti, piangi, soffri perché non rispettano Dio, offendono Dio. Questo è il pianto. E i pianti quindi saranno quindi consolati in una vera paura ma tu persevera, vai avanti. Biati i miti perché avranno in eredità la terra, la mitezza, quelle persone, dice Giuseppe nel Vangelo, gli operatori di pace, questi sono figli di Dio. Invece tanta gente vive per mettere discorre di visione o fa altro che criticare, parlare male oppure sono ipocriti. Poi vedremo dice Gesù nel Vangelo coloro che mettono divisione non piacciono a Dio e così coloro che hanno fame e sede della giustizia. Che cosa vuol dire giustizia? Nel ebraico Zadok. Giustizia significa dare ciò che aspetta, dare a Dio ciò che gli aspetta. Che cosa? La santità, la gloria, l'amore. Vuol dire santità. Biati coloro che sono affamati, desiderano essere santi, tentano la santità e saranno quindi stassiati perché otterranno il paradiso e l'eternità. Quindi desiderio della santità dal greco a Gios vuol dire non terra. E colui che è distecato dalla terra dice San Giovanni voi siete in questo mondo ma non siete di questo mondo. Il tuo modo di pensare non deve essere come quello che dice internet e la televisione quello che dicono gli altri. Noi non siamo come loro. Non accettiamo certe cose perché siamo figli di Dio. E allora dice così proprio l'evangelista vuoi essere figlio di Dio? Devi seguire Gesù. Devi conoscere Gesù. La parola conoscere nel linguaggio di San Giovanni significa fare esperienza. Non significa soltanto conosci dal punto di vista intellettuale ma significa fare vivere quella persona conosciuta. Significa imitare Gesù. Io conosco Gesù perché lo imito, lo seguo. Segui il suo esempio. Beati quindi dice il Signore Evangelio Operatore di Piazio e beati coloro che sono perseguitati per la giustizia e beati coloro che sono misericordiosi, misericordiosi, che hanno il cuore pieno di pietà, che non sono duri, egoisti, pensano tanto a se stessi, ma che hanno compassio, compassione degli altri e aiutano gli altri, non vivono solo per se stessi e beati i puri di cuore. Che cosa vuol dire purezza di cuore? Il cuore per gli ebrei è il centro della volontà, coloro che hanno la volontà pura, retta, non coloro che sono ipocriti, coloro che fanno, hanno un doppio volto, davanti a te parlano bene e poi criticano, parlano male degli altri, calugnano, diffamano coloro che sono ipocriti, che hanno una doppiezza di cuore, del cuore puro, retto, giusto, santo, tutto di un pezzo, diceva Padre Pio. Beati quindi i perseguitati per la giustizia, perché di essi il regno dice, per coloro che tendono la santità, dice il Signore, me abbiate coloro che vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo, e mentendo, con la calugna, con la diffamazione, questo è dappertutto diffuso, la menzogna, la menzogna per buttare fango contro i figli di Dio, perché danno fastidio, dice il testo della sapienza, quando si parla del giusto, che viene perseguita nell'Empio, mi è di imbarazzo, l'Empio, perché mi accusa con la sua vita, perché mi rinfaccia i peccati, quella persona mi dà fastidio, perché mette a nudo quello che sono, perché la sua vita, fedele a Dio, integerri, ma per me, dà fastidio, dà fastidio al diavolo, e allora, quindi, vieni perseguitati per Gesù, non per un ideale umano, ma per Gesù, perché se è fedele a Lui, allora grande, dice Gesù, sarà la vostra ricompensa, e questi sono i santi, nella prima lettura, questa moltitudine immensa, che non si può calcolare, che lo dà Dio, con le loro vesti bianche, candide, lavate con il sangue di Cristo, perché hanno seguito Cristo, e sono stati fedeli a Cristo, e sono i figli di Dio, e hanno sulla fronte, il sigillo del Dio vivente, il latì di Teos, di Dio, questo è il sigillo, che tutti noi abbiamo ricevuto, con il battesimo, che dobbiamo conservare, fedele, fino alla fine, allora chiediamo, oggi in questa grande solennità, e domani, festeggiamo i nostri cari defunti, e chiediamo alla Vergine Santa, la Vergine soprattutto, la Madonna del Monte Carmelo, di essere fedeli, perché la Madonna del Monte Carmelo, domani scende giù un purgatore, per liberare tanti anni dal purgatorio, la Madonna proprio del purgatore, e chiediamo alla Vergine Santa, che ci dia la forza, che lei le ammediatrice, tutte le grazie, e la nostra madre corredentrice, come la chiamava San Giovanni Paolo II, Padre Pio, chiediamo a lei, di essere capaci, di partecipare, alla Croce di Cristo, perché soltanto, dopo la grande tribolazione, per Gesù, solo per Gesù, allora parteciperemo, anche alla gloria, eterna del Paradiso, si hanno lodati, Gesù e Maria, sempre si hanno lodati, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del Signore, di tutte le cose, simili e di San Giovanni, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, uniceto, Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, Dio luce da Dio luce, Dio vero da Dio vero, e generato, non creato, della stessa sostanza, del Padre, per le cose, sono state create, e per gli uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, l'opera dello Spirito Santo, si è incriminato, nel seno della Regia di Maria, e si è fatto uomo, vocifisso per noi, sotto Consio Pilato, morì e fu sepolto, e il soggiorno è suscitato, secondo le scritture, e salita al cielo, sede al messo, e nuoverà nella gloria, per giudicare i vive e i morti, e il suo regno non avrà fine, credo in un acchietto santo, che il Signore è della vita, e proceda dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio, ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti, credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, che ha preso il suo rubattissimo, per il perdono dei peccati, e aspetto la selezione dei morti, e la vita del mondo, che verrà. Dio donna sempre alla sua Chiesa luminosi testimoni, che dal cielo ne accompagnano il cammino verso il regno, per intercessione della festosa Corona dei Santi, con piena fiducia presentiamo a Dio Padre i nostri desideri di bene e di necessità del mondo, santifica la Tua Chiesa, Signore, santifica la Tua Chiesa, Signore, Padre Santo, che con il figlio e lo Spirito Santo, sei comunione di amore, concedi alla Tua Chiesa, di essere sempre fedele alla propria vocazione, perché sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo, noi ti preghiamo, santifica la Tua Chiesa, Signore, Padre amorevole, che all'alba della creazione hai benedetto la famiglia, prima comunità umana, sostieni gli sposi con la grazia del Tuo Spirito, perché irradino la gioia operosa e feconda del Vangelo, noi ti preghiamo, santifica la Tua Chiesa, Signore, Padre poveri, che ti prendi cura del forestiero, dell'orfano e della vedova, suscite in mezzo a noi uomini e donne caritatevoli, perché le speranze dei poveri non restino deluse, noi ti preghiamo, santifica la Tua Chiesa, Signore, Padre della Luce, che chiami tutti i Tuoi figli ad essere santi e immacolati nell'amore, rivela il Tuo volto a tutti coloro che ancora non credono, perché si aprono alla novità dello Spirito, noi ti preghiamo, santifica la Tua Chiesa, Padre misericordioso, che chiami ciascuno di noi ad essere santo nelle vigente della vita quotidiana, rendici capaci di rispondere al Tuo appello, perché possiamo un giorno prendere parte alla gloria dei beati nel cielo, noi ti preghiamo, santifica la Tua Chiesa fedele. Dio fedele, che in Cristo, tuo figlio, ci hai dato il Maestro, il modello di ogni santità, fa che, vivendo nello spirito delle beatitudine, giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei Tuoi eletti, per Cristo, nostro Signore. Amen. Grazie. 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 Benedetto, sei Tu, Signore, Dio dell'Universo. Nella Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto, Signore, 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 Grazie. 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 Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere il santifico universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Cristo, ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo dietro ai suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete e mangiatene tutti. Prendete e mangiati 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 tutti. San Francesco, San Francesco, San Francesco, San Francesco, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Prendete e mangiati tutti. Prendete e mangiati tutti. e mangiati tutti. Prendete 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 e mangiati tutti. e mangiati tutti. Prendete 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 e mangiati. Prendete e mangiati tutti. 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 Prendete e mangiati. Prendete e mangiati tutti. 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 al terreno, al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio, gloria e letizia dei Santi, che vi rafforza con la loro incessante preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. Amen. Liberati dai mali presenti, per intercessione di tutti i Santi, e istruiti dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i Santi la gioia eterna di quella Patria, nella quale la Chiesa esulta in eterno, per la comunione gloriosa di tutti i Suoi figli. Amen. E la medizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La Messa è finita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Per la necessità della Santa Chiesa, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei merito a fare donna, merito il frutto del tuo segno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei merito a fare donna, merito il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega il tuo segno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei merito a fare donna, merito il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega il tuo segno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, immacolata Madre della Chiesa. Prega il tuo segno, Gesù. Sammi che l'Arcangelo, difendici nella battaglia, contro la perfide di sì del diavolo. Tu sei il nostro sostegno, che Dio eserciti e suddituì il suo impero. Gesù precheve e lo preghiamo, e tu, Prince della Milizia Cereste, pregazzo nell'Iferno Satana e gli altri spiriti marini, i quali erano nel mondo a perdizione delle anni. Qualcangelo a San Michele, difendici nel combattimento, affinché ne imperiamo nel terribere giorno del giudizio. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del cosato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. Oh, buon Gesù, esauriscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della morte, chiamami. E comanda che io vengo a te, affinché ti lodi con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amo. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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